Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Gummo83, che mi chiede di parlare del film del 2001, dei fratelli Coen, anche se è accreditato a regia il solo Joel, ma in realtà sono tutti che hanno girato entrambi, scritto entrambi, interpretato alla stragrande da un protagonista come Billy Bob Thornton, con un bianco e nero straordinario, il film è l'uomo che non c'era, un neo-noir girato con questo bianco e nero secchissimo, con una fotografia micidiale di un Roger Dickens clamoroso che riesce a utilizzare la scala dei grigi in una maniera assolutamente perfetta per donare una narrazione a questo film magicamente narrato appunto dalla voce del nostro Ed Crane, che è appunto il Billy Bob Thornton, che è questo barbiere che lavora in questo negozio, dove praticamente chiede però di suo cognato Frank. Il nostro sa che praticamente Doris gli fa le corne con Big Dave, che è praticamente il capo del grande magazzino dove la stessa fa da segretaria. Però per il quattro vivere praticamente fa finta di nulla, in tutto questo si attacca in maniera innocente però niente di sessuale o fisico alla giovane Beardy, che suona il pianoforte che secondo lui praticamente è un genietto. Poi cosa succede? Vuole investire tutti i suoi soldi praticamente nel lavaggio al secco insieme a questo truffatore che tutto a un tratto scompare e li porta via tutti i soldi. Solo che per avere questi soldi il nostro Ed aveva ricattato Big Dave praticamente dicendogli che se non lui avesse dato questi soldi, naturalmente senza farsi sgamare, senza sapere dirgli chi è, lo avrebbe sputtanato e quindi sarebbe diventato per tutti un uomo assolutamente insopportabile, visto che insomma l'adulterio all'epoca era visto in maniera assolutamente incredibile, siamo ripetati nel 1949 a Santa Rosa. A un certo punto quindi Big Dave deve capire e cerca di capire chi è che gli ha fregato i soldi, si sbaglia di uomo e di lì poi tutto quello che succederà perché diranno che è stata la moglie del nostro, poi arriveranno altri casini, altri omicidi, altre cose per un film, insomma che non vi voglio raccontare fino in fondo perché è veramente un grandissimo film, uno dei più bei film degli anni 2000, ripetato un Billy Bob Thornton meraviglioso, con una faccia incredibile, con questa voce narrante fantastica, con un'idea appunto espressiva, mostruosa, con questi tagli di luce che lo rendono ancora più interessante, con dei costume e delle scenografie perfette, con un montaggio a dir poco strabiliante, non c'è una sequenza che è raccortata male a ma all'altra, tutte le scene hanno degli stacchi precisi, ogni inquadratura è praticamente un quadro mirabile, per un film che ha una sceneggiatura di straferro dei nostri coen, una sceneggiatura veramente mirabile, attraverso 6.000 topoie di un certo tipo di genere numar se ne ricostruisce una vita che però diventa postmoderna allo stesso tempo, grazie a un'ironia palpa, l'intrinseca che rende il tutto ancora più incredibilmente unico, un film originale potentissimo che rievoca chiaramente il noir degli anni 40 ma che in realtà lo porta avanti e ci rende partecipi di una storia totalmente come ho detto moderna, originale, scritta da Dio, ci sono dei dialoghi che sono uno più bello dell'altro, in una condizione visiva che è magnifica, i piani sequenza, tutti i carreri, tutte le panoramiche, tutto quello che i nostri fanno all'interno del film lo fanno per un senso narrativo mai banale e mai buttato a cazzo di cane, un film che viene dopo Fratello dove sei, che era più ironico, più veloce, più ritmato e questo è un film invece che non fa assolutamente nessun occhiolino al pubblico, proprio perché riesce ad essere forte grazie alla sua lentezza, grazie ai suoi tempi, grazie all'ansia, la tensione che crea e grazie a un finale meraviglioso, un'altra volta che mette in dubbio comunque un certo tipo di legge, pena di morte, tutto quello che ne viene addosso con appunto il sistema degli avvocati, dati di ufficio e via del genere, cioè se non c'è soldi muore in pratica. Splendida la solita Frances McDormand a fare Doris, meraviglioso James Gandolfini a fare Big Dave, Splendida la giovanissima Merrach Scarlett Johansson a fare appunto Beardy, la nostra pianista che poi prenderà la musata, per un film con delle musiche di Carter Barwell meravigliose e che mettono ancora più forza a un film assolutamente bomba, assolutamente incredibile, un'atmosfera totale, una messa in scena che da pochi uguali i coen tirano fuori per me un piccolo capolavoro, una genialata, quindi tutto quello che vediamo rappresentato dai grandissimi, i fratelli di coen è rappresentato alla stragrande, il razzismo dell'epoca, tutta l'idea appunto del racket del gioco, tutte le manie, le persecuzioni che nascevano proprio nel periodo, tutto quello che insomma il periodo aveva di sporco o di pulito, il nostro ce lo racconta, solo i nostri ce lo raccontano, solo riportando tutto con un sistema, ecco narrativo che non ha noia per un secondo e che è lento, sinuoso come deve essere e che ci porta appunto dentro la testa di un uomo che non esiste. Il link di questo filmone è qua sotto, su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante del super grazie per donare direttamente su YouTube, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio a giro per l'Italia, mi piace, la campanellina, iscrivetevi che non vi costa un cazzo e fa felice il frusciantone qui presente e poi insomma questo l'uomo che non c'era parla di una storia d'amore in realtà incredibile che però porterà in un certo senso alla distruzione, alla crudeltà, alla fine, poi questa voce narrante una volta tanto riesce veramente ad essere formidabile e non dà assolutamente noia perché non dà spiegazioni o spiegoni su ciò che succede ma ci dà ancora più forza la psicologia di un personaggio appunto come quello del nostro protagonista, crei che è veramente meraviglioso, quindi per me questo è un film che tutti dovreste comprare, non ci sono cazzi, qui siamo di fronte secondo me a arte pura che intrattiene alla stragrande.